Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa ottava ed ultima puntata del Friday Feel. Nell'episodio precedente abbiamo visto... Bene, prima di partire con il video volevo fare un grandissimo ringraziamento a tutte le persone che mi stanno supportando sul canale e sulla mia pagina Instagram, che hanno supportato anche questa seconda serie del Friday Feel, quindi ora non perdiamoci in altre chiacchiere, partiamo con la sigla e poi partiamo con il video. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti